Rilanciare un'alleanza forte tra scuole e impresa per affrontare con efficacia il tema dell'occupazione dei giovani, valorizzando tutti gli strumenti disponibili di formazione e aggiornamento direttamente in azienda, rappresenta il futuro della scuola italiana. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa, sottoscritto stamani tra gli ordini dei commercialisti, dei consulenti del lavoro e dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti, che hanno deciso di impegnarsi con gli alunni dell'Istituto Pascal per offrire agli studenti occasioni importanti per qualificarsi professionalmente e entrare da protagonisti nel mondo del lavoro. Oggi si suggella l'intesa, il collegamento con l'Unione dei Giovani Commercialisti, l'Ordine dei Commercialisti e i consulenti del lavoro, ordini che hanno già avuto contatti con noi, con i quali abbiamo lavorato in sinergia durante questi anni, ma oggi definiamo, ratifichiamo questo accordo. Nel corso della conferenza presentate le principali novità dell'offerta formativa dell'Istituto Pascal. L'idea qual è? Avvicinare sempre di più i ragazzi ai percorsi di scuola-lavoro. E questi amici di questi ordini segneranno questa opportunità per i ragazzi. Un'opportunità importante perché nasceranno anche altre iniziative legate sempre agli ordini, e anche altre iniziative legate sempre agli ordini di scuola-lavoro.